Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da Asti e provincia. Festa grande allo Stadio Censimbosia di Asti per la vittoria dei Galletti contro Chisola che vale la promozione matematica nel campionato di Serie D. I biancorossi di mister Davide Montanarelli hanno dominato il torneo di eccellenza vincendo tutte le partite ottenendo un solo pareggio stagionale, dimostrazione eloquente della superiorità in un'annata decisamente influenzata dalla pandemia. Ancora una volta a griffare la vittoria domenicale Mattia Piana, finalizzatore della squadra del patrono Ignazio Colonna che ora può festeggiare il meritato passaggio di categoria dopo 11 anni. Nella sfida del weekend vanno a segno anche Masoello e Bandirola per il 3-1 finale. Festeggia la promozione invece nel calcio a 5 e l'Avis Isola di coach Sergio Tabbia che dalla C1 sale in Serie B. Forti boati nella tarda serata di sabato ad Asti nella zona del villaggio San Fedele alle 23.30 circa i gnoti hanno fatto deflagrare due ordini rudimentali, verosimilmente bombe carta collocati all'ingresso di una villetta unifamiliare che si trova in via Ticino. Al momento dell'esplosione in casa non era presente nessuno. L'abitazione, secondo quanto spiegano le forze dell'ordine, è risultata di proprietà di un 33enne di etnia Sinti. È stata ritrovata intorno alle 20 di sabato la signora di 66 anni che si era allontanata nella mattinata intorno alle 12.15 da una casa di cura di Costigliole d'Asti. Erano immediatamente scattate le ricerche da parte dei carabinieri della stazione di Costigliole e della compagnia di Canelli e del comando provinciale di Asti insieme al gruppo comunale di protezione civile e anche alcuni amministratori comunali. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia. Asti è il suo giornale. Asti è il suo giornale. Asti è il suo giornale.